Che casin, che casin, mamma mia che casin, non so come siamo riusciti a portare a casa sta partita, mamma mia che casin, che casin, via via, partiamo veloci perché non voglio perdere tempo, ho altre robe da fare, quindi, allora arbitraggio è sicuramente discutibile perché c'era un mezzo di rigore per la Roma, ma c'era anche uno per il Milan, il rigore per il Milan, il primo che ci ha dato, cioè il primo, perché poi ce n'era un eventuale secondo, ma comunque il primo, quello sul primo gol, allora secondo me è eccessivo, secondo me, ma proprio come attuale, cioè adesso ogni contatto è rigore, capito, cioè è un pestone e sicuramente è stato un pirla fazio, sicuramente è stato un pirla fazio perché lì che cazzo interviene, lì, lo tiene, lì il difensore dove vuoi che vada, è girato, è stato un pirla a tirare il coso, secondo me non è rigore perché ormai in area fiscano sempre rigori così, basta un contatto e rigore, ma a prescindere da quello che fazio ha fatto una cazzata, oggi ho avuto l'ennesima conferma, cioè la conferma che ho sempre avuto in questa squadra qui, è che noi abbiamo le qualità ma che non le dimostriamo, hai capito? Ante, io ti voglio tanto bene, però non è possibile che da una partita di merda con la stella rossa oggi mi giochi così, cioè perché capite? Allora mi fai incazzare ancora di più quando fai male, perché io capisco che tu sei appena trovato infortunio, fai male, però poi tiri fuori queste giocate qua, hai capito? Sei un giocatore di qualità, è un giocatore di qualità? E poi mi tira fuori queste giocate qua, comunque va bene, comunque secondo me la vittoria è meritata, anche se la Roma avesse pareggiato, se la Roma avesse pareggiato non avrebbe rubato nulla, sicuramente, era più giusto un pareggio che una vittoria, però la vittoria, cioè siamo meritati, abbiamo lottato e su questo sono già contento, non abbiamo lato, certo è che ho la conferma che anche oggi, sì, potete dire tutto, eh ma il milio è un culo, rigori, sì ma abbiamo praticamente, questa è il nostro piano cartesiano, rigori e qua su, guardate, questo è il nostro piano cartesiano così, qua su sono i rigori e qua su sono gli infortunati e si forma una curva così, è direttamente il proporzionale, un rigore e tre infortunati, un rigore e tre infortunati, a partita è sempre stato così, anche oggi, tre sostituzioni perché tre avevano male alla gamba, muscolare, tutti e tre, non si sa come, dal nulla, hanno fatto uno scatto e si sono rotti, vabbè. E così, cioè, il rigore per la Roma, beh sì, ci poteva stare ma più che altro secondo me è stato un pirla a cosa, o Mkhitaryan là, c'era la palla davanti, ha visto che c'era Donnarumma, non sapeva come fare, si è buttato, praticamente, e quindi ha fischiato fallo che non c'era, non c'era nulla lì. Comunque, risultato importantissimo per la corsa Champions, rimaniamo attaccati all'Inter, ma ormai sapete già come la penso, è praticamente impossibile riuscire a raggiungere l'Inter, il nostro obiettivo è essere quello. Poi, se l'Inter fa cazzate, ok, però noi intanto dobbiamo comunque ottenere il nostro obiettivo, questo è un tassello importante perché all'annata fai 3-3 con la Roma, rosichi perché stai vincendo 3-2 e qua invece vinci 2-1, scontro importantissimo, capito? Sei già lì sempre un po' più vicino alla Champions, di questo sono già contento, certo è anche che non abbiamo la panca perché entra Krunic, loro fanno entrare Pedro, noi facciamo entrer Krunic, questo è. Comunque, bravi, abbiamo portato a casa i 3 punti, sono contento. Ci vediamo mercoledì, niente, Tommy, un'unica roma su Tommy, si vede che Tommy è un gran giocatore, ma è proprio una roba, io non mi sono incantato con Romagnoli, se guardate i video, sì, ho detto che ho giocato male, ma un giocatore può avere un periodo che gioca male, ma semplicemente lo si fa giocare fuori, lo si fa star fuori, così dovrebbe riprendersi, in teoria, anche perché si gioca sempre tutti i minuti, difficile che riesca a ritrovare la marcia che aveva prima, se continua a fare sempre male, comunque, importantissimo, molto importante sta vittoria qua, moltissimo, sono contento, ciao a tutti, bel partito.